Una valigia lasciata sul ciglio della strada da un anziano che stamane si sarebbe dovuto recare a Roma per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico è il simbolo dei disagi che in queste ultime ore stanno subendo i pendolari molisani a causa della soppressione di alcuni treni in partenza e in arrivo a Isernia. Stamane l'anziano si è recato in stazione per salire su un regionale prenotato diverse settimane fa ma una volta lì ha scoperto che la corsa era stata cancellata. Impossibilitato per motivi di salute a prendere un pullman ha deciso di allontanarsi per attendere al fresco la corsa successiva. Con i treni soppressi ha dovuto rimandare il viaggio verso Roma ha deciso di lasciare la valigia qui all'edicola che si trova di fronte alla stazione. Entro oggi l'anziano deve raggiungere la capitale altrimenti l'intervento rischia di saltare una vera e propria corsa contro il tempo la sua. Dovevano essere solo due mentre sono nove i treni che dal primo luglio e fino al prossimo nove dicembre sono stati cancellati. Una scure senza precedenti per il trasporto su ferro molisano. Sono in totale cinque le corse giornaliere per e dalla capitale soppresse quattro invece. Quelle che partono arrivano da Caserta più regionale delle 20.07 da Roma Termini che circolerà solo nei giorni lavorativi. L'avviso è stato affisso sulla biglietteria automatica perché Isernia e gli sportelli con personale sono tutti chiusi. Tali che ora rischiano di isolare un'intera comunità provocando degli effetti negativi sia da un punto di vista economico che sociale. Per i pendolari raggiungere i centri urbani più importanti del centro e del centro sud Italia ora diventa un'impresa assai difficile. Dopo una certa ora è quasi impossibile fare ritorno da Roma. La stazione di Isernia che avrebbe dovuto essere un hub di collegamento fondamentale verso Roma e verso Napoli oggi appare più deserta del solito e a rimetterci ovviamente sono i viaggiatori che stanno riscontrando numerosi disagi. La signora a lei che cosa è successo? Io solitamente parto da Isernia però già è un po' che ci sono stati dei tagli dei treni e purtroppo devo partire da Venafro. Quindi deve prendere l'auto, da Isernia deve arrivare a Venafro e poi da Venafro... Lasciare l'auto e poi prendere il treno è un disagio.